Oggi Chris e Max in cucina vi propongono il pane dei santi, una ricetta lievitata toscana che viene preparata in occasione della festività degli ogni santi. In una ciotola mettete dell'uvetta sultanina, aggiungete dell'acqua leggermente tiepida e gerate bene e lasciate riposare per un 15 minuti circa. In un'altra ciotola mettete dell'acqua tiepida, aggiungete lievito di birra secco, girate bene. In una ciotola capiente setacciate la farina. Unite due cucchiai di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di pepe nero e un pizzico di sale. Girate bene gli ingredienti. Asciugate bene l'uvetta ed incorporatela alla farina. Unite anche delle noci sgusciate e tagliate a pezzi, non troppo piccoli. Girate bene ed unite due cucchiai di olio extravergine di oliva e lievito sciolto nell'acqua preparato in precedenza. All'inizio lavorate il composto con un cucchiaio, poi con le mani e infine trasferitelo su una spianatoia. Lavorate bene e formate un panetto. Mettete il panetto ottenuto in una ciotola di vetro. Copritelo e fatelo lievitare per due o tre ore, fino al raddoppio. Trascorso il tempo rimettete il panetto sulla spianatoia e dividetelo in due parti e formate due pani. Copritelo e fatelo lievitare per due pani. Con un coltello affilato fate delle incisioni sopra il pane. Trasferite i due pani in due teglie antiaderenti e fate riposare ancora per un 30 minuti circa. In una ciotolina mettete un tuorlo e poi sbattetelo bene con una forchetta. Poi spennellate il tuorlo sopra il pane dei santi. Per la cottura in frigitrice ad aria fate cuocere a 160 gradi per 28 minuti circa. Invece in forno a 180 gradi per 30-35 minuti. Eccolo pronto il pan dei santi cotto in frigitrice ad aria. Come vedete la cottura è perfetta sia nella parte superiore che quella inferiore del pane. Sofficissimo all'interno e super profumato. Questo è quello cotto in forno. Era un'interno. Grazie.